Prosegue la storia infinita tra Nova Musa, la società che gestisce i bookshop e le biglietterie del Museo Nazionale di Ravenna, Santa Polinaria in classe e Mausoleo di Todorico e il Polo Museale Regionale. A seguito della decisione del Consiglio di Stato, la società romana è tornata ad occuparsi temporaneamente dei servizi, riassumendo i nuovi indipendenti licenziati, ma sugli scaffali dei bookshop è pressoché assente ogni forma di gadget. Dal ponte del 2 giugno ad oggi la situazione è andata peggiorando e i biglietti vengono venduti senza la possibilità di usare carte di credito o bancomat e al posto loro vengono rilasciati semplici foglietti numerati. Per il momento, al fine di offrire ai turisti un servizio migliore, si provvederà al rifornimento degli scaffali grazie ad operatori del settore, ma la situazione potrebbe ricambiare nel giro di un mese, quando arriverà la nuova sentenza del Consiglio di Stato. Ad attendere il corso degli eventi, anche la Fondazione Ravenna Antica, che a febbraio scorso aveva firmato l'accordo con il ministro Dario Franceschini per subentrare la nuova musa nella gestione dei monumenti.